Fior di fette è un gran formaggio, piace a tutti al primo assaggio, un'idea per far la prova in padella con le uova e le uova se permette gliele offre fior di fette. Oggi su ogni confezione da 10 fior di fette nel cana un buono sconto da 200 lire o 2 uova fresche in omaggio.